Domanda numero 206 del Catechismo di San Pio X. Che ci proibisce l'ottavo comandamento non dir falsa testimonianza? Risposta, l'ottavo comandamento non dir falsa testimonianza ci proibisce ogni falsità e il danno ingiusto dell'altrui fama. Perciò, oltre la falsa testimonianza, la calunnia, la bugia, la detrazione o mormorazione, l'adulazione, il giudizio e il sospetto temerario. Vedete, in questo ci caschiamo veramente tutti. Non è solamente non dire le bugie, certamente le bugie non vanno dette, non vanno dette mai, neanche se si è papi o presidenti della repubblica, non vanno dette, perché non è che uno più elevato o uno che sia massone, diciamo così, ah ma la mia moralità è spirituale, questa è robetta per il popolo. No, 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 questo vale per tutti, per tutti indistintamente, quindi o lo segui oppure piano di sotto. Allora, proibisce ogni falsità e il danno ingiusto dell'altrui fama. Attenzione a parlare di qualcuno e danneggiare la fama. So di sacerdoti che sono stati accusati ingiustamente di peccati infami che sono finiti in galera e qualcuno era così disperato che si è suicidato. Dio abbia pietà della loro anima, ma Dio abbia pietà soprattutto dell'anima di chi li ha calugnati, che hanno la responsabilità non solamente della fama che hanno tolto a quelle persone, ma anche del loro suicidio, perché questi preti si sono suicidati con la disperazione nel cuore e forse Dio avrà misericordia proprio perché hanno fatto questo gesto insano nella disperazione, quindi non pienamente coscienti di quello che facevano, perché la disperazione toglie a volte la lucidità. Ma chi ha danneggiato sapendo che quello che dicevano era falso e dichiarando il falso, attenzione, sappi che la bocca dell'inferno è lì che è ben aperta per mangiarti e per farti pagare per l'eternità questo male orribile che hai compiuto. Se non te ne repenti non rimedi al male che hai fatto, certo è molto difficile rimediare al male che si fa alla fama degli altri, perché tutti ascoltano il male degli altri, ma poi se uno dice no no guardate che avevo sbagliato, non era vero, non ti ascolta più nessuno. C'è un bellissimo detto, se non ricordo male di San Filippo Neri, quando uno va a confessarsi e confessa di aver detto male di qualcuno, gli dice come penitenza vai, o non so se come penitenza era una roba di questo genere, gli dice vai, prendi un cuscino di piume e poi lo apri e lo fai andare il piume dappertutto e poi torna qua. Lui prende, va, apre le piume, c'è vento e vanno dappertutto. Benissimo, adesso per avere la soluzione vai, raccogli tutte le piume e rimettite dentro il cuscino. Come faccio? La stessa cosa con le parole che diffamano una persona che tu hai messo, vanno dappertutto e non sei più capace di farle tornare indietro. Quindi facciamo bene attenzione a ripetere delle cose di cui non siamo certi. Ah no me l'ha detto un amico che è molto mio amico, ma sei sicuro che sia vero? Ne hai la certezza fisica? L'hai visto tu fare quelle cose lì? Se non l'hai visto è meglio tacere. San Cosa Maria diceva se non puoi parlare bene di qualcuno è meglio tacere, perché se parli male uno fai del male e poi se non è vero rischi veramente la tua anima, oltre che fare tanto del male alle altre persone. E quindi ci proibisce la falsa testimonianza, la calunnia, cioè non solamente dire qualche, anche se una cosa è vera ed è cattiva che l'altro ha fatto, è meglio evitare di dirla. Evitala. Sapete perché? Per un motivo molto semplice. Tutti noi abbiamo tanti peccati che se venissero detti noi sprofonderemmo sottoterra di tre metri dalla vergogna. Allora vogliamo noi fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi? Gesù dice fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te e allo stesso modo evita di fare agli altri quello che vorresti non fosse fatto a te. Vorresti che gli altri dicessero in piazza i tuoi peccati? Le porcate che hai fatto? No, no. E allora non farlo tu, neanche con gli altri, neanche se è vero. La calunnia può invece attribuire delle cose false, anche questo è assolutamente proibito. La bugia, la detrazione, la mormorazione. La mormorazione, certo, chi sta in alto a volte fa mormorare chi sta in basso, però anche chi sta in alto deve stare bene attento di essere giusto, numero uno, misericordioso, non solamente a parole ma nei fatti e anche insomma non dare motivo di mormorazione con lo scandalo, con delle esagerazioni, con delle cose sbagliate. L'adulazione, i leccapiedi, i leccacalzini, come dice un papa, anche se gli fanno molto comodo perché è uno che dice ah come sei bravo, fai tutto bene, ecco, bravo, ti faccio cardinale, ti faccio capo di castello, via di seguito. I leccapiedi sono degli infami, sono gente che non vale nulla, non vale nulla, è gente che viola il peccato non dire falsa testimonianza perché tu dici bene anche se la cosa è fatta male, perché vuoi avere il vantaggio dell'amicizia del potente. Sappi che a Dio non la fai, non gliela fai, si chiama dire falsa testimonianza, è un peccato grave, un peccato mortale. Adulare il tuo capo di lavoro, adulare il tuo vescovo, adulare il tuo parroco, adulare chiunque è un peccato grave perché adulare vuol dire dire che stai facendo bene anche se quell'altro sta facendo male, quindi stai mentendo. Il giudizio, il giudizio non vuol dire se uno ruba, uno che ruba ha rubato, non è un giudizio, ma dire è un ladro cattivo malvagio l'ha fatto con cattiva volontà, non lo sappiamo, magari l'ha fatto per fame, io non lo so, possiamo dire ha rubato, quello è un dato di fatto e il giudice deve giudicare effettivamente, ma il giudizio è il giudizio morale contro, è un porco, è un disgraziato, bisognerà tagliargli la testa e via di se questo è quello che Dio non ci permette, quello sta a Dio, il giudizio, quello che salva o che condanna spetta solamente a Dio e il sospetto temerario, quindi non fondato su delle certezze, a volte, ah ma quello c'è una faccia brutta, quello lì è un disgraziato, ma lo sai tu, non lo sai, è un sospetto temerario, ah ma quello lì è così, quindi vai con calma, che non vuol dire che tu gli metti in mano il tuo portafogli perché ti devi fidare del primo che capita, no non è quello, ma non devi neanche avere un sospetto temerario e poi spargerlo, ah ma quello lì è uno che fa le cose così e lo dici a tutti, rischia di essere una calunnia e un danno gravissimo a lui e poi soprattutto alla tua povera anima che non merita di essere trattata così male da profanare te stesso violando i comandamenti di Dio. Che ci proibisce l'ottavo comandamento? Non dire falsa testimonianza, l'ottavo comandamento non dire falsa testimonianza, ci proibisce ogni falsità e il danno ingiusto all'altrui fama. Perciò oltre la falsa testimonianza, la calunnia, la bugia, la detrazione o mormorazione, l'adulazione, il giudizio e il sospetto temerario. Perciò oltre la prossima